Come federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria vogliamo ringraziare l'azienda Italmeal che c'è molto vicino, azienda che è stata selezionata per la grande qualità dei prodotti e l'alta professionalità, è un'azienda che sta vicino alla federazione, è un'azienda innovativa, io vorrei lasciare due parole proprio al signor Ennio Parentini, due parole proprio sull'azienda Italmeal e anche sulla federazione. Italmeal è un'azienda che nasce con brand storici della pasticceria come è Besozi, che è un mulino che ha partecipato all'industrializzazione degli evitati da ricorrenza e che è sempre stata vicina al mondo della pasticceria ed è sempre un piacere per Italmeal essere vicino alle persone che iniziano un'attività cercando di farlo nel migliore dei modi possibili. Non voglio tediarvi, è stato un piacere per noi fare questo e continueremo a farlo sempre di più e sempre al meglio, auguri a tutti.